bentornati nella custom up the mist io sono sempre alex shall e con me black devil 246 ciao a tutti allora eravamo rimasti a il creeper che era esploso abbiamo rimesso tutto a posto un po di complicazioni però ce l'abbiamo fatta allora ricominciamo allora reattore numero uno accendiamo va vediamo un po che succede non vedo niente accendersi a parte si è acceso qua ok perfetto e il resto dei reattori dove sarà mai andiamo a vedere dopo questa redstone non si accende strano vabbè andiamo avanti vediamo un po levati da davanti vai vediamo un po che c'è qui dentro vedo un cavolo qui è chiuso di qui si va vediamo si cade attento a qui altre leve dei pulsanti con questa non succede niente vediamo un po le leve nulla pulsanti nulla andiamo avanti qui si esce di nuovo fuori è notte e non è successo nulla ci sono delle torce di redstone la sopra e c'è un altro creeper la giù interessante io direi di andare di qua allora dove andiamo però strano strano proprio questa mappa andiamo a vedere qualche altro palazzo stai volando non sto volando dalla mia visuale sembra di sì ok adesso non più pieno di mondo solo in mondo perfetto lì c'è uno zombico con il nasone il cosiddetto zombico col pisello in faccia no è un zombico villaggiere dove sei non ti ma ecco di là seguimi sta un'altra casa comunque ci conviene tornare un attimo a casa aspetta ma qui dentro non c'erano dei letti no un residence senza letti perfetto ah qua non ci sta niente vabbè ci siamo già venuti grazie al cazzo dovremmo fare una cossa spostati 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 corri 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 ci sono creeper ovunque in questa cavolo di mappa vieni di qua stati qua all'hotel no andiamo dove stavamo prima cioè dove abbiamo fatto lo spawn point ok io sono quasi arrivato io no eccoci qua saliamo sopra ho fatto una cazzata perché non ho chiuso la porta a me mi stanno attaccando dai su muoviti io faccio il cecchino da qua sopra no sono caduto scappa 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 oddio quanti scheletri nooo un zombico sotto aia aia scheletro ragno scheletro ragno scheletro ragno scheletro ragno ok non sono un fottuto cecchino e peccato a me e becco lui sono un grande oh cristo ragno picchio il ragno con l'altro subito al letto si subito al letto con un ragno che ti attacca ok è morto ci sono dei mostri non possiamo vedi un po' dove è sto mostro c'è uno zombie ce ne sono due si ma ok ho beccato lo zombie in testa sono un grande headshot vai a letto vedi se ti fa andare si vai headshot allo zombie ho consumato sette frecce sono un nabbo andiamo uh tanta esperienza dei fili non servono a niente continuiamo questa chiave un po' chiamiamo la mappa dai ok guarda quanti creeperini eh ho notato uno è esploso allora continuiamo verso l'altra strada ok allora qui ci siamo andati avanti si va di qui di qui c'è un altro creeper attento allora qui che c'è ufficio postale che è chiuso anche qui usa l'arco creeper sono qui è innamorato di me non esplodere non esplodere non esplodere ok io lo butto a te tu lo butti a me apposta è morto creeper allora eh l'ufficio postale che è letteralmente distrutto vabbè entriamoci normale vabbè come le poste normali ok ci sono altri libri e altri fogli che ci facciamo niente ok c'è una scala mh scala interessante andiamo aaaah ancora ti metti davanti qui che c'è oddio ok ha salato aspetto uuuuh rapporto leggiamo leggiamo eh si apro la cesta rapporto del colonnello smith 7 maggio stabilito centro di comando ah centro di comando all'ufficio postale dovrebbe essere evacuazione richiediamo supporto ogni resistenza inutile che cosa sarà mai successo boh c'è una spada di ferro e una spada di scena e una di pietra beh mi prendo quella di pietra ok io mi prendo la aero allora vediamo un po' c'è nient'altro no non sembra andiamo andiamo via da qui dai ok allora vediamo un po' è un po' incasinata come mappa non mi piace tantissimo eh sinceramente allora vediamo un po' entriamo qui dentro oh cavolo che diavino è successo a questa casa? è crollato andiamo sopra c'era un jukebox c'è un jukebox con un cd dentro andiamo a vedere andiamo a vedere prima controllo qui c'è una mappa mappa? si ho trovato una mappa e un'altra un altro libro scritto vediamo un po' che c'è scritto dicono che è arrivato dal cielo ma io lo so è sempre stato qui che cosa? oh mio dio posiamo questo libro devo mangiare mandiamoci un discotto anzi due allora vediamo questa mappa non saprei che cos'è fammela vedere tieni tieni il disco vediamo un po' dove è il jukebox? eccolo qui ascoltiamo? si sembra una musichetta normale qualunque vabbè prendiamoci il disco e andiamo via hai capito che cos'è la mappa? la mappa si se vedi vedi i nostri punti passamela guarda vedi uno dei due si girerà ah ah è una mappa dell'iso niente di che ok siamo su un'isola allora vediamo qua dentro aspetta che posso allora vediamo qui oh che figata un flugolare un'altra cesta dei mattoncini un mellone questo ce lo fottiamo ancora crafting la solita cosa oh qui c'è una porta oh pavimento scatti giuventino fuggite dall'isola ah interessante qui c'è un altro buco enorme però qui ci sono delle ceste c'è una ciotola un po' di pelle un diamante questo ce lo fottiamo le torce prendile non si può mai sapere continuiamo vediamo un po' è molto da esplorare questa mappa vediamo un po' che cosa c'è qui c'è però un un negozio dove? qui vediamo che cosa è? negoio negoio aspetta facciamolo vedere a tutti negoio ah no di qua è negoio oddio negoio che negoio oddio quanta roba allora il pane e basta non ci interessa resta la il è è è